Buongiorno a tutti, sono tornato con i nuovi sviluppi del progetto che dovrebbe permettere di alzare il posteriore dello zip sp col blocco 180 senza avere il problema dell'accordo sulla testa che va a toccare sul telaio. Adesso ho alzato il posteriore fino a 400 mm, quindi 40 cm anziché i 32 che avevo prima da originale. Ho montato come potete vedere gli RS2410 e davanti ho mantenuto lo stesso interasse che avevo con gli RS24 normali. Come potete vedere così è decisamente troppo alto, quindi bisognerà creare un raccordo sulla testa artigianale in modo da modificare la curva e non avere il problema appunto dello sbattimento, se così possiamo chiamarlo, sul tubolare. Vi faccio vedere com'è adesso. Vedete decisamente troppo alto, adesso ho appoggiato le cariene senza fissarle, solo per farvi vedere come potrebbe essere. La mia intenzione è quella di abbassarlo di circa 3 barra 4 cm, quindi arrivare ad un interasse di 37 o 36 in modo da avere una guidabilità ottima in città e anche in strada. Ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti, nel frattempo io continuo il progetto, speriamo che vada a buon fine. Alla prossima! Ciao! Ciao!